Qui siamo in estate, come si può vedere, e l'impegno che alcune settimane fa abbiamo descritto certamente rimane, è un lavoro da fare. Non sovrapponiamo, mi limito ad aggiungere questo, il tema in modo automatico degli sbarchi dell'immigrazione al tema della cittadinanza, certamente ci sono dei punti di contatto tra queste questioni, però stiamo parlando anche di argomenti abbastanza diversi. Qui naturalmente abbiamo parlato del tema migratorio, non del tema della cittadinanza in Italia, e sul tema migratorio abbiamo, credo, un grande interesse comune, la Grecia e l'Italia, che è quello di trasformare gli apprezzamenti che i nostri Paesi hanno avuto per lo sforzo, cui siamo stati sottoposti dalla pressione delle migrazioni illegali in cooperazione concreta.